Carissimo Presidente Stefano Caldoro, carissimo Sindaco Luigi De Magistris, carissimo Senatore Raffaele Calabro, carissimi amici imprenditori ed operatori del settore sociosanitario, l'8 giugno si terrà la conferenza stampa di presentazione di Anaste Campania presso la Camera di Commercio di Napoli. A questo seguirà il primo convegno Anaste Campania dal tema la sostenibilità dell'assistenza residenziale presso l'hotel Montespina. Invito tutti voi ad una massiccia e sentita partecipazione poiché sarà un momento di seria riflessione non soltanto sulla tematica affrontata ma sul ruolo di imprenditori e sul futuro delle nostre attività imprenditoriali e sulla crisi in atto nel nostro paese. Sarà un momento per mettere insieme le nostre idee, portare avanti le nostre ragioni ed unirci al fine di diventare più forti, al fine di avere finalmente voce all'interno delle istituzioni che contano. Sarà una giornata nella quale verrà messa in luce l'importanza del nostro operato imprenditoriale, sia per quanto riguarda il ruolo sociale che rivestiamo che per le possibilità occupazionali in costante crescita. In ultima analisi per l'effettivo flusso economico derivato dalle nostre attività, flusso che palesemente contribuisce alla crescita dell'economia italiana. Vi aspettiamo numerosi, un saluto ed a presto.